Con una spinta che guarda molto all'ambiente, alla reale utilità dei trasporti via treno e anche alla nota contrarietà alla cabinovia, la consigliera regionale di patto per l'autonomia Giulia Massolino ha presentato due interrogazioni alla giunta regionale. Al centro proprio la ferrovia, mezzo di trasporto che per Massolino dovrebbe essere incentivato e non relegato a veicolo per trasferire croceristi in città. Spesso ci siamo sentiti dire che la linea ferroviaria sarebbe satura e questo sarebbe un motivo per il progetto dell'Ovovia. Adesso però abbiamo appreso dai giornali la notizia che sarebbero previsti dei treni in più per i croceristi, quindi la linea ha trovato spazio per dei treni in più per i croceristi e allora però la vinca di secondo livello non doveva essere approvata dalla regione. L'altra interrogazione guarda anche i collegamenti aerei. Essendo la tratta via treno Trieste-Milano ormai consolidata, Massolino si chiede il perché dell'attivazione di una tratta aerea tra le due città, ritenendola un doppione inquinante di cui si potrebbe fare a meno. Abbiamo presentato un'interrogazione sul volo Trieste-Milano. Il treno tra Trieste-Milano c'è, esiste, siamo in piena crisi climatica, molti paesi europei stanno vietando i voli interni e invece ci troviamo un'amministrazione regionale che sceglie di incentivare l'uso dell'aereo promuovendo delle tariffe agevolate per residenti con la motivazione della continuità territoriale. Ecco vorremmo informare che Trieste non è un'isola e che quindi invece andrebbero incentivati i trasporti su rotaia. C'è di più perché dietro la scelta del volo Trieste-Milano sono state introdotte delle tariffe agevolate le cui attrattività sono messe in discussione dalla consigliera d'opposizione. Nei primi sei mesi di attivazione della linea ci sono stati 15.000 passeggeri di cui 1.600 hanno usufruito della tariffa agevolata per residenti e quindi ci chiediamo o la tariffa non era così vantaggiosa rispetto al prezzo di mercato oppure evidentemente questo volo ha servito per lo più turisti.